Un saluto a tutti i campanari di YouTube, ci troviamo a Vergiate in provincia di Varese, questa è la paracchia di San Martino con un concerto che possiamo vedere in quadra e qua, cinque campani in bibbe molle e adesso lo ascoltiamo per la santa messa festiva. A presto, ciao! A presto, ciao! A presto! 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 Grazie a tutti